si mette acqua al centro e si impasta ti piace sempre cucinare? ti ritieni brava? noi diciamo di sì c'è un po' di sottotitoli Pagano a poco a poco, poi mettere la mollica nell'olio, adesso la imparo pure io. L'aglio, l'olio, la mollica nell'olio bollente, poi mettere due mandorle, anche le mandorle, e si gira sempre. Si gira fino a quando? Adesso lo vedo, fino a si fa rosolare. Ah, si fa rosolare. Questa è l'uva passa. Quanta se ne mette la doccia per i tuoi? 100 grammi? 50 grammi? Eh, 50 grammi. 50 grammi di uva passa, un po' di mollica, due pugni di mollica, un po' di cannello, un po' di mandorle, un pizzico di sale, due mandorle. E due mandorle taglizzate, a mano, ricolosamente a mano. Tutte a mano. Si fa asciugare un pochino la pasta. Adesso è pronta l'acqua e si butta giù, si cala la pasta. Quanto tempo deve rimanere? Due secondi. Due secondi. Quando si andrà. Ah, quando viene su la pasta si toglie? Un pizzico di sale nell'acqua. Un piatto è tutto come ti metti la pasta. Si mescola? Si mescola. E' pronto. E' pronto il piatto.